Cosa succede se un boss della malavita... Lo abbiamo beccato. Ho qui davanti a me il boss scava fosse. Decide di cambiarsi la faccia. Dovete cambiare i connotati a una persona molto, ma molto importante. Detta così, sembrerebbe qualcosa di illegale. E proprio nulla potrebbe mai farci cambiare idea. Questa sì. Vorrei i chirurghi più qualificati. Benvenuti. Eccoli qua i miei machi del bisturi. Io direi di incidere qui. Ah! Ma il paziente sveglio. Non so io, mi hai preso la mano. Ah, scusa. Ma anche i chirurghi più bravi. Perfetto. Possono sbagliare. È identico. Sono tale e quale a Leonardo. Leonardo? Di Caprio, Leonardo Di Caprio. Di Caprio. Con la O. Ma che cazzo avete combinato? E adesso? È meglio darsela a gambe. Scappiamo, dai, corri. Sti cazzo di vende. Che è successo? Peppino Di Capri. Ma qua Peppino e Peppino, i suon gommosi. Ce la possiamo fare. Parima si chiara. E tu con questi che ci fai? Qui dentro, se non ci facciamo rispettare, è finita. Noi dobbiamo assumere l'espressione da duri. Non mi piace che la gente mi guardino. Vuoi favorì? Vada per la forchettata. Forsecchettore mio. Adesso sono io, Peppino Di Capri. Ti, ti, c'è, in, ti. Natale col boss, dal 16 dicembre. Scappate al cinema. Tutto bene in par de palle.